Ciao ragazze e bentornate sul canale, oggi si torna a parlare di profumi, in particolare di dupe e in particolare di dupe presente all'interno della catena di discount Eurospin, quindi facilissimi da reperire lo low cost per la grande diffusione del discount sul territorio italiano, si trovano da nord a sud, centro o indistintamente quando si tratta di dupe c'è sempre una doppia corrente di pensiero, chi li schifa completamente e chi invece va proprio a cercare queste chicche in giro per i vari negozi normalmente parliamoci chiaro, la maggior parte delle persone davanti al reparto profumeria dei discount passa dritto senza degnarlo di uno sguardo tanto più i profumi e invece con il tempo nasini molto fini hanno scoperto dei dupe quasi identici di profumi molto famosi perché comprare un dupe? Sostanzialmente perché magari un profumo ci piace ma non chissà quanto da andare a spendere 60, 70, 80, 90 euro per l'originale perché comunque siamo degli amanti dei profumi e vogliamo avere una selezione il più ampia possibile e quindi andiamo anche alla ricerca dei dupe è vero che in questo dato preciso storico momento l'Italia è piena di negozi di equivalenti quindi si può tranquillamente andare all'interno di una catena di equivalenza sia piuttosto che dai parrucchiari ci sono quelli di Yodeyama che voi sapete sono i miei equivalenti preferiti c'è la compagnia del profumo, come si chiama? L'evoluzione del profumo che è anche l'evolutor su strada, insomma un po' di tipo presentatrici Avon, insomma se ne possono trovare veramente di ogni tipo in passato non era così, se non ricordo male la prima volta che ho sentito parlare di equivalenti è stato con l'avvento in Italia di FM che vendeva a scatafascio perché di fatto è stata la prima ditta con equivalenti molto simili agli originali e di persistenza comunque sia buona poi ne sono venuti tanti altri io non sono un amante particolare dei dupe né degli equivalenti diciamo che nelle due differenze sostanziali è che l'equivalente proprio c'è scritto c'è il numero, ce l'ho sempre qua davanti, il numero 24 di Albea di Sorgenta è Narciso Rodriguez mentre sui dupe questo non è assolutamente segnalato quindi sono indicazioni che si riescono a reperire studiando la piramide olfattiva e soprattutto utilizzando il proprio naso quindi non è così apertamente dichiarata questa equivalenza con il profumo originale io sinceramente vi consiglio di andarli a provare perché veramente gli assomigliano molto la persistenza non è identica, ovviamente durano molto di meno molto probabilmente la percentuale di essenza è più bassa rispetto agli originali c'è sicuramente molta più acqua, molto più alcol però comunque in alcuni casi la durata è più che accettabile per profumi che normalmente costano anche meno di 5 euro per 100 ml di prodotto quindi sinceramente io un occhio ce lo butterei soprattutto se non è il profumo della vita ma ci piace averlo all'interno della nostra cameretta perché magari quel giorno potrebbe andarmi di spruzzare quel profumo e altra nota a favore dei dupe rispetto magari agli equivalenti è che sostanzialmente molte volte il fatto della differenza di costo così elevata è in buona parte da attribuire al merchandising che c'è dietro ad una profumazione cioè è inutile dirlo che il prezzo che noi andiamo a pagare di un prodotto non sto esagerando se vi dico che dal 70% è dato dal pack e dalla pubblicità cioè voi capite con Christian Dior che tutti i Natali fa partire per 3 mesi la pubblicità del J'adore che è il profumo più venduto di casa Dior con Charlene Theron in una pubblicità che viene trasmessa nelle ore di punta e dura una roba tipo 4 minuti e mezzo tra il cachet dell'attrice, tra il passaggio nelle reti televisive principali 3, 4, 5, 6 volte al giorno nelle ore di punta ovviamente picchia su quello che è il prezzo finale detto questo la restante parte ovviamente è dovuta sia all'essenza che viene utilizzata perché sicuramente in un profumo di marca verrà presa l'essenza ricavata dal fiore raccolto solo al tramonto in 3 mesi l'anno mentre nelle altre magari verrà utilizzata un'essenza ricreata in laboratorio che si avvicina ma non sarà mai come quella del fiore raccolta alle 3 di mattina soltanto 3 mesi l'anno ovviamente detto questo li siamo subito perché ho chiacchierato per ben 5 minuti senza dirvi nulla e per fortuna non sono un elenco sterminato di profumi io ho cercato di individuare quelli soprattutto che sono in linea permanente all'interno di Eurospin perché poi ogni tanto capita che ci sono addirittura delle limited edition che non si trovano sempre allora ragazze la prima stiamo parlando di fiori di magnolia quindi la linea che compare in tutta un po' la profumeria di Eurospin è il Rose Touch dovreste se ci riesco a trovare la foto vederlo volteggioare sulla mia testa e pare che sia il dupe di Narciso Rodriguez o de Toilette sapete ve l'ho detto nel precedente video in cui vi ho parlato di profumi quindi delle note presenti all'interno del profumo che secondo me il Narciso Rodriguez è in assoluto quello più difficile da imitare la maggior parte delle case equivalenti non riesce a mio avviso a centrare esattamente il quantitativo di essenza all'interno per cui io sento sempre quella nota un po' differente sono andata personalmente a sniffarlo da Eurospin e non posso che confermare questo tipo di impressione anche su questo dupe gli assomiglia, è buono, ha le note di quel profumo quindi se vi piacciono quel tipo di note sicuramente vi piacerà il Rose Touch ma continuo a non sentirlo uguale all'originale poi qui dovreste sempre vedere il Fabulous Flower qui ho fatto attente ricerche su internet e non mi risultava nessun tipo di dupe tranne un paio di accenni quindi mi sono detta e sono andata proprio per questo da Eurospin perché volevo verificare se quelle due sole note che avevo trovato quindi delle indicazioni di un paio di persone su internet fossero vere o meno questo perché proprio di recente ho sia un equivalente sia un campioncino e quindi avevo ben in mente la profumazione e io mi trovo d'accordo secondo me il Fabulous Flower è l'equivalente scusatemi, è il dupe di flora di Kenzo poi un profumo sempre della linea Fior di Magnoia il Violet Sugar secondo me non ha equivalenza cioè non è il dupe di nulla al di là di quello che si può trovare su internet ma non mi risultano particolari somiglianze ho provato a sniffarlo e personalmente mi trovo d'accordo con chi non è riuscito ad accostare il Violet Sugar a nessun profumino di marca poi abbiamo il Pure Charm che è secco, preciso e sputato Lipenotic Poison e ragazzi c'è Lipenotic Poison è uno dei profumi più copiati della storia e anche uno dei più facilmente individuabili date le note cipriate dolci è un profumo molto particolare ma ben ben distinto da altri profumi quindi questo è facilissimo poi abbiamo il profumo Wonder che è la Petite Rob Noir di Guerlain questo non l'ho trovato nel punto vendita dove sono stata e tra l'altro a poco sarebbe servito perché non conosco il profumo di Guerlain quindi non avrei potuto constatare di persona se effettivamente era il dupe o meno delle Petite Rob di Noir poi passiamo invece ai meschietti non ci scordiamo di niente e troviamo per loro la marca Nissi io non so se si pronuncia così dovreste vedere la foto qui sperando che la trovo e abbiamo il Nissi Wild che è praticamente l'equivalente di il dupe di Dolce Gabbana The One attenzione qua perché poi sapete che in modo particolare sui profumi da uomo ci sta il Dolce Gabbana The One il Dolce Gabbana Così quindi diciamo c'è una cosa di base e poi tutte le sottocategorie diventa più difficile perché se fa presto di Dolce Gabbana è il The One sempre della Nissi c'è il Men's Soul confezione marrone che è le terre di Hermé ovviamente di Hermé altro profumo strafamoso e costosissimo ragazze perché le terre di Hermé lo so per certezza perché ovviamente mio fratello usa il profumo più costoso che esiste in profumeria mi pare che viaggia sui 95 a salire quindi profumo stra costoso e è uno dei pochi o dei parfum da uomo che io perlomeno conosca perché se ci fate caso molte volte quelli da uomo sono dei toilette in realtà questo invece è proprio uno dei parfum quindi ragazze ovviamente la tenuta non sarà mai quello delle terre di Hermé perché è un profumo veramente eccezionale che si fa le 24 ore senza proprio neanche un battito di ciglia però costa 95 euro quindi penso che sia un dupe assolutamente da tenere in considerazione con questo ragazzi ho concluso fatemi sapere se il video è stato di vostro gradimento perché ne arriveranno altri sulla striscia a caccia del dupe perfetto vi mando un bacione se il video è stato di vostro gradimento commentate pollici su pollici giù e iscrivetevi al canale un bacio grande